Come può testimoniare? Che cos'è la levitazione? Commento. La levitazione è il sollevarsi spontaneo in aria di un oggetto o di una persona, contravvenendo alla legge di gravitazione. I medium nel corso delle sedute producono con relativa frequenza fenomeni di levitazione. Tavoli che si alzano dal suolo, oggetti che cambiano posto da soli e altro ancora. Spesso si nota la levitazione dello stesso strumento. E' il caso del grande medium ad effetti fisici Daniel Douglas Holm, 1833-1886, che alla presenza di molti testimoni uscì in levitazione da una finestra e rientrò dalla finestra accanto. Molto più recentemente, come può testimoniare chi scrive queste note, lo strumento romano Demofilo Fidani, al termine delle sedute, levitava sino al soffitto con tutta la poltrona in cui era stato in trance.